Stasera i Narese si sono voluti riunire per rendere omaggio con una fiaccolata alle vittime del naufragio di Lampedusa. Ancora morti e ancora dolore, altri corpi sono stati recuperati nel pomeriggio dai sommozzatori, nel relitto del pescareccio affondato. In tanti i corpi delle vittime sono così tanti che vengono un bosso dove comporli. Gli ultimi recuperati sono stati deposti dentro due camioni frigoriferi. La cittadinanza Narese ha organizzato questo momento simbolico per esprimere il cordoglio per questa strage. Grazie.